Nel 1967, il volto di Marilyn Monroe diventa anche opera d'arte, con questa stampa serigrafica multipla di Andy Warhol, intitolata Ten Marylins. Nell'opera del pittore americano vediamo il volto della famosa attrice, morta nel 1962, che viene ripetuto e variato dieci volte. Di questo soggetto ne esistono anche altre variazioni cromatiche, raggruppate in quantità e formati diversi. Possiamo intravedere la fotografia originale, utilizzata per le rielaborazioni, sotto i colori applicati da Warhol. Si tratta di una fotografia pubblicitaria del film Niagara, film americano del 1952, che ha reso celebre Marilyn Monroe. I colori sono accesi e cambiano nello sfondo, nei capelli e nei lineamenti, ma le zone a campitura e piatte mantengono sempre la stessa forma in tutte le variazioni. Una linea precisa divide il volto di Marilyn dai capelli, e nessun elemento sembra reale. Il volto sembra una maschera e i capelli sembrano una parrucca dai colori innaturali. L'aspetto originale degli occhi è stato modificato esagerando il trucco per renderlo grottesco. Le labbra appaiono deformate dal colore che esce fuori dal bordo e anche i denti sono ridotti a macchie. Gli accostamenti cromatici sono puramente casuali, come afferma Warhol stesso, e l'insieme assume l'aspetto di un poster. Si tratta essenzialmente di una composizione modulare, in cui il modulo corrisponde al volto, che diventa un elemento che si ripete sempre uguale, variando solo nel colore. Ed è nel volto che i volumi si appiattiscono e sparisce qualsiasi cenno di profondità. Il modulo Marilyn si ripete in quella che potrebbe essere una texture infinita di sfumature di colore. Il significato che emerge dalla lettura di quest'opera è che Marilyn non esiste come individuo, non è più vista come un essere umano, ma come un prodotto consumistico, al pari della Coca-Cola o della zuppa Campbell, che Warhol crea in serie come se fossero articoli da supermercato. La star del cinema è solo un prodotto commerciale creato dall'industria cinematografica di Hollywood per soddisfare la richiesta del pubblico. Warhol quindi personalizza gli oggetti, ma spersonalizza le persone, cancellando le loro espressioni e trasformandole in loghi pubblicitari. Nella foto originale, l'attrice appare incantevole e serena, ma le variazioni della serigrafia creano stati d'animo diversi. In alcune di queste, Marilyn sembra un'icona religiosa, mentre in altre assume i connotati di una grottesca vittima della celebrità e del successo. Lo stile di queste variazioni seriali deriva da una particolare tecnica adottata da Warhol, che è appunto la serigrafia, per cui la foto viene trasferita sulla tela facendo passare il colore attraverso un telaio in seta o tessuto sintetico. È un processo di imprinting simile a quello dello stencil, che permette in seguito di stampare il ritratto, più volte e con colori diversi. Andy Warhol nasce nel 1930 a Pittsburgh da padre cecoslovacco, un minatore emigrato negli Stati Uniti. È considerato il più noto e influente tra tutti gli artisti della pop art, colui che più di tutti ha contribuito a diffondere nel mondo l'estetica ultramoderna e frivola della cultura americana degli anni Sessanta. Pittore, regista, fotografo e molto altro, Warhol si forma artisticamente a New York, all'epoca capitale mondiale dell'arte. Qui fonda la Factory, un laboratorio e punto di incontro dove sviluppa insieme ad altri artisti progetti d'avanguardia in pittura, grafica, musica e cinema. Una vita piena di eccessi, però, sarà la causa della sua morte a soli 57 anni, nel 1987. Siamo nell'epoca del grande consumismo americano, dell'immediato dopoguerra, e la pop art, con artisti come Warhol e Liechtenstein, è il movimento artistico statunitense più importante. Esso prende forma dalla Gran Bretagna, più o meno verso la metà degli anni Cinquanta, ma è negli Stati Uniti che il fenomeno cresce a dismisura nel decennio successivo, gli anni del consumismo più sfrenato. Pop art è l'abbreviazione di popular art. Non si tratta però di arte del popolo, ma di arte di massa, volutamente anonima come la produzione industriale di serie, e si esprime con tecniche innovative. Questo movimento artistico e culturale tende dunque a prendere e trasformare i simboli della realtà metropolitana. In primis la pubblicità, di cui mima la serialità e l'immediatezza espressiva. Esempi della pop art di Warhol sono opere seriali come quelle che hanno per soggetto la zuppa Campbell, il ritratto di Goethe o i famosi fiori. Grazie. 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 Grazie.